Grazie. Grazie a tutti. Poi i saluti, prima di tutto saluti e ringraziamenti, permettete i miei personali saluti a Italo Marri e a Tiziana, sono non solo gli organizzatori di questa, oramai siamo agli 11 anni di questa Isola del Libro, ma sono infaticabili e veramente siamo grati loro. Non basta come ringraziamenti perché poi c'è l'amministrazione regionale senza la quale non esisteremmo, c'è l'amministrazione comunale che ci sostiene, che ci appoggia, che ci dà anche questo posto stasera un po' più riservato, carino, certe volte fuori quando il tempo lo consente, il Gal del Trasimeno e poi tutti gli sponsor privati che sostengono questa iniziativa. La prologo di Castelrigone, Giovanni in modo particolare, è una persona che mi piace ricordare e ringraziare. Come vi ho detto adesso passerò subito la parola a Erika Pontini, caporedattore della Nazione, capo della cronaca fiorentina della Nazione, però è nostra, è perugina, è stata con noi, continua a stare con noi, è un'amica dell'Isola del Libro e peraltro devo dire anche del generale Mori, nel senso che già in altre occasioni proprio qui Erika ha intervistato il generale Mori. Grazie Erika, benvenuta, abbi pazienza a pochi secondi e poi ti lascerò fare il tuo lavoro. Appunto Mario Mori, generale dell'Arma dei Carabinieri, io continuo a chiamarlo generale, un po' come tutti i suoi uomini, alcuni dei quali sono qui presenti per salutarlo. E' uno di quegli uomini che ha attraversato la sua professione, una professione ricca, complessa e arricchente anche per lui. E la sua ricchezza una parte anche qui, tutti lo seguono, gli vogliono bene, parleremo un po' della sua vicenda, ma ne parleremo anche attraverso il libro di Giovanni Fasanella, scrittore giornalista, che voi certamente conoscete quindi è inutile che io spenda parole per presentarvelo, però vi dico guardatelo bene perché lo ritroverete qui o a Castelricone o nelle altre nostre manifestazioni perché è fertile nella scrittura, sta scrivendo delle cose interessanti, io non mi permetto di anticipare, semmai lo vorrà fare, lo farà lui se ce ne sarà l'occasione, ma non appena queste cose saranno pronte, cotte da mangiare, qui all'Isola del Libro Giovanni Fasanella tornerà. Grazie a voi e cominciamo con la conduzione di Erika Pontini. Grazie. Grazie Fausto, non è professionale dare del tu durante le interviste, lo dico subito, a Fausto Cardella dopo anni in cui ho dato del lei anche quando lui mi diceva diamoci del tu adesso non ce la faccio più a dargli del lei, quindi mi perdonerete per questa cosa, le presentazioni le ha già fatte lui e poi ci sono persone come il generale Mori che anche io chiamo generale non prefetto perché credo che abbia un valore in più ma questa è una mia personale riflessione che non hanno bisogno di presentazioni. Diceva Fausto Cardella che tutti gli vogliono bene, sì, in realtà come tutti i grandissimi personaggi della nostra storia è amato e odiato, non so in quale percentuale ma la sua vita professionale e le sue vicissitudini giudiziari dimostrano un po' proprio questo che forse non tutti gli hanno voluto bene o forse lui non si è voluto bene o forse sicuramente lei non vuole bene qualcuno e spero che ce lo racconterà. Partiamo dalla fine ovviamente, partiamo dalla fine perché questa è la prima uscita pubblica del generale Mori che è stato, faccio un brevissimo inciso, il comandante del ROS, è stato il direttore del SISD, così si chiamava allora il servizio segreto civile, è stato uno dei più fedeli collaboratori del generale dalla chiesa ed è stato uno dei fondatori del raggruppamento operativo speciale quindi di un nuovo modo, di una nuova ideologia di fare proprio investigazioni che ha poi cambiato tante storie tante storie della nostra, della vita democratica di questo paese, per ricordare che cosa hanno fatto molti degli uomini che erano allora con il generale Mori basta pensare al recente arresto dell'ultimo boss stragista Matteo Messina Denaro. Ad aprile di quest'anno la Cassazione ha messo la parola fine sul lunghissimo processo trattativa Stato-mafia che tutti ricorderete le motivazioni non sono ancora state depositate ma la Cassazione a differenza di quello che aveva fatto la Corte d'Appello ha messo una pietà tombale perché ha assolto con la formula più ampia il generale Mori, l'allora anche generale comandante del ROS Subranni e il colonnello De Donno perché il fatto non sostiste mentre in appello, insomma chi mastica un po' la materia capirà perfettamente la differenza l'avano assolti perché il fatto non costituisce reato lasciando poi nelle pieghe della motivazione anche qualche giudizio sull'operato quanto meno improvvido dei carabinieri inseriti in quel contesto, in quegli anni perché poi ricordiamoci sempre che cosa succede quando il generale Mori contatta Ciancimino. Io vorrei partire proprio da qui, l'abbiamo sentito e lo sappiamo ma ce lo riracconta? Che cosa successe? Perché lei la prima volta lo raccontò nel 98 alla Corte d'Assise di Firenze che stava processando per tutti gli attentati nel continente e fu lei peraltro a usare la parola trattativa forse se lo dovesse ridire oggi non userebbe la parola trattativa. Intanto buonasera e grazie dell'invito che mi ha consentito di ritornare qua, vedere qualche amico e quindi sono molto contento già per questo. Vedo tra la gente alcuni che hanno qualche anno meno di me ma insomma sono già belli maturi e quindi nel 90-92 erano in grado di valutare e capire quello che succedeva. Con la morte di Giovanni Falcone siamo nel maggio del 92 e quella successiva di Paolo Borsellino siamo nel luglio del 92, lo Stato era veramente in ginocchio nel senso pieno della parola perché non solo le forze di polizia non erano in grado di controllare il fenomeno mafioso ma c'era una rassegnazione diffusa negli ambienti che contavano, anche quelli istituzionali, dell'indicibilità della mafia. C'è qualche persona che addirittura si dichiarava la resa pubblica in televisione quindi era una situazione molto diversa dall'attuale e se non ci si mette in quella fase lì non si può capire. Io ero il responsabile di un reparto operativo a livello nazionale e quindi con particolare funzione di lotta al terrorismo e alla criminalità quindi l'attacco della mafia era compito mio quello di sventarlo. Mi trovai in una situazione dove non solo io, quindi i carabinieri ma la polizia e tutti gli altri organi che contrastavano con la nostra erano impotenti perché non avevamo degli strumenti conoscitivi e operativi per fronteggiare adeguatamente quel fenomeno. Io per quanto mi riguarda pensai che bisognava invertire il sistema che era la base delle attività di quell'epoca. Allora cosa succedeva? Fatto criminale, il solito morto che alle 7 del Mazzino veniva segnalato nella località siciliana, si intervina sul posto, si facevano le indagini e dopo un mese tutto finiva lì. No, stavolta eravamo noi che dovevamo attaccare. Come? Non avevamo fonti, non c'erano i pentiti, c'erano qualche personaggio minore e molte volte squallido. E allora il problema era dove attaccarli. Io pensai che bisognava attaccarli su quelli che i siciliani chiamano i piccioli, cioè i soldi, dove erano parecchio sensibili e dove erano forse meno difesi che non sul piano operativo. Cioè andare a Corleone e fare l'indagine su Rina era molto più difficile perché là comandava lui, non il comandante della compagnia carabiniera o il commissario, comandava Rina a Corleone, sia chiaro questo. Invece con quel sistema lì, scoprire attraverso le appalti, le collusioni, i rapporti, era un modo nuovo di fare l'indagine. Abbiamo cominciato da lì e questa era un'ipotesi di lavoro. Poi c'era un'altra ipotesi di lavoro, c'era quella di ricercare i latitanti. Ci misi un ufficiale che notoriamente è per voci giornalistiche conosciuto come il capitano ultimo, che cominciò a lavorare nell'agosto del 92 e a gennaio dell'anno successivo era storina. Infine c'era il terzo lavoro, proprio legato all'imprenditoria. Trovare chi già era nel sistema della conduzione illecita degli appalti e vedere se si poteva portare dalla parte nostra. E l'uomo che gestiva gli appalti per Cosa Nostra era Vito Calogero Cioncimino. E noi andiamo da Vito Calogero Cioncimino, subito dopo la morte di Falcone e prima della morte di Paolo Borsellino. Andaste con una mediazione, il primo a prendere contatti fu proprio uno dei suoi ufficiali, se non ricordo male, De Donno, perché De Donno aveva già arrestato Cioncimino. De Donno aveva arrestato due volte Cioncimino per degli appalti indetti dal comune di Palermo per la manutenzione delle strade e la manutenzione delle scuole, quindi lo conosceva bene. Ci racconta proprio che cosa accadde in quel momento, lui prese contatti, ovviamente chiese a lei di andare al successivo incontro perché le rappresentava il livello operativo più alto del Rossi in quel momento e quindi era l'unico in grado di essere l'interfaccia anche per un personaggio del genere. De Donno mi chiede il permesso, mi dice guarda io lo conosco già, abbiamo avuto un rapporto decente perché dire un buon rapporto per uno che ti arresta due volte non è il massimo, però è un rapporto decente, molto corretto e in questo momento qua io penso che uno come Cioncimino possa essere scioccato anche lui da quello che sta avvenendo e quindi io l'autorizzai, me l'assunsi la responsabilità senza neanche avvertire i miei superiori. Lo dissi solo all'epoca, siamo nel fine giugno, parlando con la dottoressa Contri che era segretaria di Palazzo Chigi del appena nominato ministro Giuliano Amato e poi successivamente l'ho detto a altri, a Violanti e ad altri ancora. Ma non lo dissi ai miei, e lo dico qua, tanto ci sono anche i carabinieri, perché sono convinto che mi bloccavano e siccome io sulle indagini penso di lavorare per conto mio, non ho bisogno di indicazioni e di sollecitazioni interne, non lo dissi. Lo dissi al generale Subrande, il mio comandante, dopo il secondo incontro con Cioncimino. Quindi il 28 agosto, dopo il secondo incontro con Cioncimino, approfittando l'ho fatto che era in licenza, quindi neanche glielo potevo dire, e gli disse guarda Antonio, io sono andato a vedere. E non lo dissi nemmeno ai magistrati? Non lo dissi ai magistrati, perché nel frattempo ero in rottura con la procura di Palermo rappresentata dal procuratore della Repubblica Pietro Gianmarco. Ci racconta l'incontro? Con Cioncimino? Con Cioncimino. Cioncimino si considerava un'autorità, lui sosteneva di non essere mafioso, io penso che non fosse uomo d'onore nel senso classico del termine, ma si considerava un'autorità, è stato anche sindaco di Palermo. Non gli bastava di donno, che forse era molto più preparato, a parte che è più intelligente di me, ma aveva bisogno di uno di pari grado, nella sua ottica. La prima discussione fu molto strana, è una che l'avesse registrata e sentire, ma questi da dove vengono? Perché parlavamo di tutt'altro, non mi ricordo nemmeno, comunque di cose che non c'entrano nulla, di Palermo, della nostra vita. e ce ne andammo salutandoci così, dopodiché al secondo incontro invece, voi che volete da me? E io usai un termine che continuo a usare perché è quello giusto, io stabilai una trattativa, potevo usare il termine trattativo, potevo usare il termine rapporto, confronto, ce ne sono mille modi, ma era una trattativa perché sapevamo entrambi, anche se non te lo dicevamo, che io chiedevo qualche cosa e in cambio lui voleva qualche altra cosa. Questo era banale addirittura. Quindi il secondo incontro passò così e io gli disse questo, ma insomma mi ricordo le parole, signor Ciancimino, ma questo ormai è un muro contro muro, bisogna trovare una soluzione. Non gli potevo dire, senti Ciancimino, non mi rompere le scate, dimmi due starina, perché quello mi mandava a quel paese, perché adesso magari possiamo anche permettersi di fare gli sbruffoni, perché i tempi sono cambiati, ma loro stavano vincendo, in quel momento stavano vincendo loro, non noi. Noi eravamo sotto, era morto Falcone, era morto Borsellino, erano morti i migliori di noi in quel momento e noi stavamo sotto e non avevamo idee perché io, da che è morto Borsellino, comandavo il reparto operativo più importante d'Italia per i carabinieri, non ho avuto un'indicazione dai miei comandi, dai miei ministri che mi dicessero se fa così, innoviamo, troviamo qualche cosa, di che cosa hai bisogno? Erano tutti terrorizzati, come dicevo io, erano ascolti sotto le scrivanie, aspettando che passasse la piena, questa è la realtà, quindi noi eravamo in difficoltà, non potevo andare da Ciancimino e fare lo sbruffone, non me lo potevo permettere, perché ero un professionista e sapevo che erano i miei limiti, quindi l'ho trattato da pari a pari, è un muro, ne vogliamo venire fuori, e lui fece parola di circostanza. Scusi la interrompo, il secondo incontro è dopo la morte anche di Borsellino? Sì, il secondo incontro è del 28 di agosto, quindi dopo la morte anche di Paolo Borsellino. Perché poi anche nella narrazione è importante, quando è avvenuto, perché si è tanto discusso dell'accelerazione sull'omicidio di Borsellino, perché così tempo dopo, però adesso... Il dottor Cardella ha accennato, io ho scritto un libro che uscirà tra breve, la storia della trattativa Stato-mafia, quella vera, perché è quella che abbiamo fatto io e De Donno con i documenti, che è un po' diversa da quella che è rappresentata giustamente, in maniera imparziale, da quella che può essere una sentenza, se mi consentite, e il dottor Cardella in questo momento non mi sente, quella di appello è stata una sentenza giustata, in Sicilia si dice è una sentenza annaccata, cioè non mi sente il dottor Cardella. Non glielo ridiciamo, l'ho interrotta però generale, lei è con Ciancimino, vi trattate alla pari perché in quel momento... E lui al terzo incontro, ai primi di ottobre, mi sorprende, perché dice ma allora che devo fare io? Vediamo un po' se lei mi può indicare qualche cosa... Io cosa speravo da Ciancimino? Non speravo che mi dicesse granché, speravo che mi desse qualche informazione che migliorasse la mia capacità informativa, quindi la capacità poi operativa sul terreno. lui mi sorprese tra il terzo e quarto incontro quando al quarto incontro mi disse io ho parlato con chi di dovere, loro mi chiedono che cosa volete da loro, cosa offrite in cambio. Io rimase sorpreso, veramente sorpreso, non me l'aspettavo, però era molto facile la mia risposta, gli potevo dire nulla, non lo potevo dire. Se loro si consegnano, noi trattiamo bene le loro famiglie. Ciancimino, che era una persona che già aveva più di 70 anni, era su una poltrona di quelle dove uno ha la villaggio, che si casca dentro, affonda, sbatté le mani qua sulle ginocchia, schizzò col terrore negli occhi, dice voi non volete morto, anzi volete morire pure voi. Non posso dire assolutamente queste cose. Interrompiamo. ci cacciò la casa in malo modo, tant'è che De Donno scendendo le scale abbiamo fatto un buco nell'acqua. E io invece, guarda, non abbiamo fatto un buco nell'acqua, perché l'hai visto che era terrorizzato? Sì. Beh, prima o dopo questo torna a bomba. Non tornò con me, perché l'avevo trattato male, tornò con De Donno. E c'era la prova che lui vuol dire se era così terrorizzato che ci aveva parlato sul serio, che era in grado di avere quel tipo di contatti. Mi ero reso conto in quel momento che lui aveva preso contatto con qualche De Donno di livello. Secondo lei con chi? Con il dottore, quello come si chiama, uno che comunque è andato allargato l'ansima a Reina. Cina. Poi lo confessò a Caselli durante l'interrogatorio. Qual è il suo interrogatorio? Il mio interrogatorio è il dottor Cina. Poi che succede? Poi cosa succede? Che manda a chiamare De Donno tramite il fuso massimo e De Donno mi chiede l'autorizzazione. L'autorizzo va. Era il 18 di dicembre del 92. Torna De Donno a fare. Ho parlato e dice ma cosa volete effettivamente? E lui dice io gli ho detto vogliamo tutt'orina. e lui dice vabbè mi porti delle mappe del sistema della distribuzione del gas di due o tre quartiere di Palermo mezzo Monreale, Monreale e che poi lo voglio vedere perché so di un lavoretto che è stato fatto a casa di Reina. Sicuramente sapeva dove abitava ma alla siciliana Mariera in quegli ambienti non te lo dicono mai tutte e una volta te la fanno sudare nel tempo. Svitano la vite. Eh appunto la vite. Un po' arrugginita. Però se io il colonnello quando sono uscito noi ci sentiamo l'odore intorno c'era un sacco di polizioni o di carabinieri non so perché l'indomani viene arrestato Ciancimino in esecutivo di un provvedimento della procura generale di Palermo per il pericolo di fuga perché fuga dove andava Ciancimino con quella faccia anche al polo nord comunque si bloccò lì. Io sono convinto che se fosse rimasto a piede libero in un modo o nell'altro ce l'avrebbe fatto prendere ci avrebbe dato gli strumenti per farlo prendere perché sapeva che attraverso quella informazione lui poteva poi mercanteggiare un trattamento di riguardo. Comunque l'avete preso lo stesso. L'abbiamo preso per altra via. Per altra via ma l'avete preso lo stesso poco dopo. non so quanto è durato il processo adesso non ricordo se 17 anni tutto il processo trattativa oltre che tutti gli altri processi però dopo ci perderemmo a affrontare anche gli altri capitoli. Adesso è stato finalmente assolto che le cose si aspetta cioè un'anche riabilitazione pubblica rispetto a tutto quello che è accaduto in questi anni agli attacchi non solo alle sentenze ma anche agli attacchi pubblici. Io mi aspetto ragionevolmente che la sentenza metta in evidenza bene il mio comportamento e quindi sia in un certo senso una riabilitazione. Non mi aspetto nulla da chi mi ha attaccato perché è povera gente quindi non ammetterà mai di aver sbagliato ma in questo momento io comincio a divertirmi perché adesso attacco io glielo ho già detto io mi sto curando sto vedendo di non ingrassare troppo ogni giorno faccio 4-5 km di camminata perché li devo veder morire tutti. Ve lo dico proprio con trasporto con odio ecco Se vuole ci dice i nomi è solo una battuta è solo una battuta Volevo chiedere una cosa al dottor Cardella Fausto Cardella già procuratore generale a Perugia ne ha fatte troppe qui adesso per raccontarle tutte però in quel momento in quegli anni va in Sicilia dopo a Caltanissetta che poi era la procura competente la piccola procura peraltro competente ad indagare sull'omicidio di Falcone e quindi è nella prima linea di quel periodo di cui parlava il generale cioè quando lo Stato si sentiva annientato i magistrati i carabinieri non sapevano proprio dove sbattere la testa per capire cosa stava cosa stava succedendo quindi volevo chiedere se anche lui ebbe quell'impressione quando arrivò in Sicilia e poi gli volevo chiedere il dottor Cardella ha sempre pensato che il generale Mori fosse innocente è stato in questi anni perché l'hanno dichiarato innocente aprile scorso un atto di fede rispetto al professionista e l'uomo che conoscevi o che cosa? Allora cerco di rispondere velocemente almeno alla prima domanda perché è vero quando noi siamo arrivati a Caltanissetta dico noi perché il Dabbo Cassini è Dio una piccola parentesi Falcone fra le sue cose che poi probabilmente hanno contribuito a portarlo alla morte c'è stata l'invenzione della Procura Nazionale Antimafia Procura Nazionale Antimafia che è venuta fuori nella realizzazione come spesso accade in Italia molto diversa da come era stata concepita Falcone voleva un'altra cosa lo dico se qualcuno è sentito come oggi il tempo di riforme che vogliono si parla tanto di riformare ecco se riprendessimo qualche idea di Falcone non per applicarla così to cure perché penso che neanche Falcone una persona così intelligente come lui che vedeva 30 anni avanti figuratevi oggi se gli si proponessero le sue idee di 30 anni fa direbbe ma ragazzi svegliatevi però dico ci sono degli spunti che potrebbero essere utili e tra questi la Procura Nazionale consentiva che persone magistrati presi da altre direzioni distrettuali potessero andare a rinforzare le indagini qualora ce ne fosse bisogno il primo caso in cui questa legge voluta da Falcone è stata applicata è stata proprio per la morte di Falcone per Falcone stesso per cui in una situazione drammatica la Procura di Caltanissetta come ha detto Erika era una procura di provincia che aveva questa competenza su Palermo aveva ce l'ha tuttora ma era tra l'altro in via di trasferimento il Procuratore era stato trasferito tra le due stragi era arrivato il nuovo Procuratore Tinebra che insomma ecco si trova davanti le indagini più importanti possiamo dire a livello mondiale in quel momento e quindi arriviamo noi a dare una mano a dare una mano c'era il deserto c'era il deserto prima di tutto perché c'era proprio un deserto fisico di persone di magistrati e poi perché c'era un deserto di come dire di idee di tutto intanto cominciava a fiorire un altro pentitismo quello di Leonardo Messina e quindi era lì che sicuramente si sarebbe affermata diciamo così un po' di prestigio della Procura quindi quei pochissimi lavorano lì che è materia viva sulle stragi come diceva il generale prima insomma vabbè lo sappiamo è stata la mafia faremo un po' di indagini poi alla fine li chiuderemo lì perché non si scoprirà niente come non si è scoperto niente c'era un momento di totale sbandamento e questo sbandamento che dice il generale che lui ha percepito sulla sua carne e sui suoi uffici lo vedevamo anche noi non c'era nulla ci dovevamo inventare un pochino tutto c'era la squadra mobile della polizia che aveva in carico le indagini e devo dire che io mi meravigliai anche parlandone con i colleghi che i carabinieri del ROS vedete il reparto che il generale Mori ha comandato a quell'epoca era vice comandante operativo era un reparto che è stato era stato istituito poco tempo prima proprio per volontà anche quello guardate Giovanni Polcone per volontà e per intesa il generale se vuole lo potrà confermare tra lui e Giovanni Falcone per i fatti che erano avvenuti a Milano e così via quindi era un reparto che aveva come si dice il marchio insomma il lascia passare ai miei occhi di una forza di polizia che si era già impegnata nel terrorismo che si era impegnata loro sono i nipotini figli di Dalla Chiesa insomma dei gruppi speciali di Dalla Chiesa concepiscono questo metodo di lavoro che poi viene applicato al terrorismo come diceva prima il generale e anche alla criminalità di tipo mafioso quindi questo era il clima che siamo venuti a trovare in quel momento e avevamo noi per primo bisogno di persone che ci aiutassero perché vedete l'indagine non è che nasce quando vi dicono l'investigatore così noi procediamo a 360 gradi allora state tranquilli che non hanno proprio si brancola nel buio l'indagine dà una conversazione quante chiacchierate abbiamo fatto con la sua pazienza al ROS o quando venivano con Ultimo che è arrivato quando lei ha ricordato cioè l'indagine che facciamo come la vediamo che cosa si può fare non era facile iniziare e poi dopo il bandolo fu facciamo finta che si tratti di un'indagine comune cominciamo dal sopralluogo e cominciamo rifacciamo tutto da capo quel poco che era stato fatto quindi io non solo confermo ma io ho provato questa sensazione che descriva e soprattutto dissi ma scusate abbiamo un reparto di eccellenza di questo genere allora mi pare che il comandante della sezione anticrimine di Palermo fosse a di notti se non ricordo male o qualcosa del genere presi contatto con lui tramite lui contatto con il reparto centrale il colonnello allora Obinu e altri e cominciamo a lavorare anche con loro poi dopo il resto è un'altra storia che vi raccontiamo la seconda domanda vedete io sono sempre stato convinto dell'innocenza del generale Mori e devo dire per due motivi essenzialmente uno perché ho avuto il privilegio di conoscerlo di persona in queste circostanze in secondo ma soprattutto più che per la conoscenza personale che insomma voglio dire sempre con la mediazione di quei rapporti di simpatia di amicizia se consente di stima suppongo reciproca spero ma sempre con quel mimo di formalismo che ci deve essere no? ma soprattutto la conoscenza attraverso i suoi uomini il racconto dei suoi uomini con alcuni dei quali sia in quel periodo sia successivamente qui a Perugia stesso perché poi tutti crescono e tutti vanno ho avuto il privilegio di poter lavorare e quindi i racconti che mi facevano di come era il generale delle sue delle sue certe volte sfuriate del suo modo di fare ma anche ti costruisci l'immagine un'immagine di un uomo quando ti vengono a dire che vedete il generale Mori ha una carriera professionale una vita professionale particolarmente ricca e direi variegata ha fatto tante cose nell'ambito non solo della polizia giudiziaria tante cose nell'ambito dello Stato io mi ero fatto l'idea che il generale Mori fosse persona per lo Stato capace di fare adesso non voglio dire tutto ma capace di fare alcune cose con il limite della sua coscienza soprattutto dal suo onore di soldato non lo so se mi avessero detto guarda il generale Mori ha fatto questo per lo Stato vabbè può essere non lo so vediamo datemi le prove ma venirmi a dire che il generale Mori aveva fatto qualcosa contro lo Stato alleato con perché lo sapete voi com'è lo schema della trattativa il generale Mori e i suoi uomini d'intesa con Totorina questi eccetera eccetera per indurre lo Stato cioè lui sta dalla parte dei mafiosi ora per me questo era francamente troppo da poter credere guardate in 43 anni di procura ne ho viste di tutti i colori e se mi dicessero insomma non mi meraviglierei di niente questa francamente per me era troppo da credere una cosa di questo genere portatemi delle prove ma avrei avuto bisogno di prove molto molto che non c'erano quindi questo è il primo motivo per il quale anche dopo la prima sentenza non è stata scalpita minimamente la mia convinzione sulla sua innocenza innocenza in questo senso che stava dalla parte nostra dalla parte dei buoni non dalla parte dei mafiosi secondo motivo un po' più tecnico dovete avere se volete pazienza il reato di trattativa non esiste e già questo dovrebbe un po' farvi riflettere siccome noi da una trattativa mancata o realizzata c'eravamo già passati con il caso Moro ve lo ricordate tutto il discorso quindi se sto discorso della trattativa non è mai approdato a un reato a una cosa eccetera motivo ci deve essere in effetti credo che sia un motivo intuitivo lasciamo per trattativa non esiste allora che cosa si pensa brevissima parentesi i pubblici ministeri del processo io quasi tutti li conosco almeno i più anziani ho massimo rispetto per loro non direi mai una parola contro la magistratura con la quale ancora mi sento parlare ovviamente rivendico la mia libertà di opinione di idee ognuno la pensa diversamente ma non è che la penso diversamente ora l'ho pensato diversamente anche allora valutazioni diverse credo che capiti in tutte le professioni che tu la pensi in un modo o nell'altro ma insomma con alcuni sono anche in buoni rapporti di amicizia di stima però non significa che su quell'aspetto non sono d'accordo e perché non sono d'accordo un po' per quello che vi ho detto prima cioè è illogico mettere se tu mi dici ha agito per conto dello Stato boh vediamo se questi li ma se tu mi dici ha agito contro Torrina è illogico non quadro ma il secondo motivo è che non sussistendo questo reato di trattativa e già questo mi riesce più difficile da digerire trovano questo reato che è violenza o minaccia corpo politico eccetera eccetera un reato figlio voluto nel nostro codice degli anni 30 poi adattato perché prima probabilmente era contro il re non lo so adesso poi l'hanno adattato agli organi costituzionali ma insomma credo che sia stato credo che non sia mai stato applicato non mi risulta una casistica zero casi credo ancora meno del duello una cosa quando mai ed è un reato perché non è stato fatto prima di tutto perché forse non ci sono stati casi ma soprattutto perché è difficilissimo anche da concepire perché per indurre in errore fare pressioni è necessario che questo corpo politico in qualche modo o li abbia recepite o comunque li abbia denunciate li abbia sentite il corpo politico è persona offesa parte offesa come si suol dire quindi quello che tu hai la parte offesa viene i denunciati guarda io ho subito queste pressioni e allora se fosse stato costruito così io parliamone vediamo ma chi sono questi non c'era un nome non c'era una persona non c'era una testimonianza non c'era nessuno figuratevi un politico che poi dicesse una cosa di questo genere allora era già all'inizio una cosa monca allora in generale ha le sue opinioni che io rispetto però vedete che un pochino il dubbio ti viene perché proprio tecnicamente questa costruzione a mio modestissimo parere da badilante del diritto intendiamoci non pretendo assolutamente era una costruzione che non reggeva non reggeva prima logicamente ma non reggeva neanche processualmente perché in tutti i processi che siano quelli del furto o del cosa ci vuole uno che viene lì la prova se non c'è quello che parla quello perché passa testimonianza non ha detto questo ci vogliono degli elementi di prova gli elementi di prova non possono essere soltanto deduttivi o logici oppure come in questo caso costituiti dal fatto che una serie di episodi ognuno dei quali ha una storia e ha una come si dice una vicenda complessa che si può andare dalla non perquisizione del covo di Riina alla scomparsa di come si chiama l'omicidio di quell'altro al ruolo di Provenzano sono tutti episodi che ogni cosa ha una sua due tre soluzioni ed erano stati tutti in qualche modo esplorati investigati chiusi vengono riesumati impacchettati insieme per costruire in senso processuale questa ipotesi accusatoria che non mi ha meravigliato per niente non solo non ha retto in grado d'appello e in grado d'appello come giustamente diceva prima Erika però si è fatta tra l'altro una ecco diciamo così una un'affermazione che non era strettamente necessaria sul ruolo della trattativa sul cosa ma in Cassazione non abbiamo letto ancora le motivazioni ma quando dicono il fatto non sussiste è tombale cioè vuol dire non parliamo nel più non c'è niente ecco l'unica cosa che mi permettò di dire e ho chiuso a difesa dalla magistratura non è stato un errore giudiziario quello del generale tecnicamente è un errore giudiziario quando c'è la sentenza definitiva in Cassazione questo non è stato non è stato ancora un errore giudiziario perché il secondo grado di giudizio ha affermato una verità che è stata riconosciuta assolutoria in Cassazione quindi tecnicamente non è stato un errore giudiziario è però qui il cuore del problema della giustizia italiana i tempi perché al generale Mori probabilmente non importa nulla che tecnicamente non sia stato un errore giudiziario perché lui ha sofferto e ha patito per anni e immaginiamo quanto e quindi certamente quello che sto dicendo ora non è per lui un balsamo però serve a me per dirvi guardate l'unico vero il principale problema della giustizia italiana sono tanti ma è proprio la lunghezza la lungaggia la durata dei processi può succedere di essere investigati ingiustamente e di essere poi assolti se questo arrivi dopo due mesi sei mesi un anno è fisiologico si avviene dopo sette anni dieci anni allora già è una condanna al patto stesso di aver subito il processo grazie anche perché di fatto la carriera del generale Mori sarebbe potuta avanzare ancora di più se non ci fosse stato questo lunghissimo processo no? no? comandante generale dell'arma no 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 io mi ho fatto prefetto mi ho fatto direttore del servizio più di quello io scusate dopo se avete qualche domanda la potete anche fare però i dibattiti non si possono interrompere è una questione di educazione nei confronti di chi è qua se no stiamo un piazza e ognuno dice quello che quello che ritiene più opportuno vorrei fare una notazione sulle quanto ha sostenuto il dottor Cardella c'è una cosa in più che io vorrei dire che mi differenzia il mio caso dalla norma io non sono stato per tanti anni un'imputata normale e il dottor Cardella lo sa io conoscevo le carte quanto se non più i miei accusatori perché erano cose che avevo gestito io personalmente disponevo delle carte per difendermi conoscevo quell'ambiente e sapevo muovermi in quell'ambiente ho scelto il mio avvocato non in funzione del nome ma in funzione delle sue qualità morali e professionali avevo il sostegno dei miei uomini che se c'è qualcosa che mi mancavo che non ricordavo erano pronti a dirmelo avevo i soldi per andare quando volevo a Palermo a difenderli partendo da Roma e andando a Palermo io non sono l'imputato normale io non sono Bianchi o Rossi Luigi Rossi Luigi si doveva affidare alla clemenza della corte era fottuto Rossi Luigi va bene invece Mario Mori è riuscito a cavarsi volevo chiedere al collega Fasanella ha scritto con il generale Mori un libro ad alta tensione però non l'ha scritto oggi che appunto c'è un un lieto fine e comunque per quanto riguarda il generale di questa vicenda l'ha scritto nel insomma 2011 adesso una decina anni fa insomma l'ha scritto quando sul generale sulla conduzione delle indagini prima il procuratore Cardella accennava quello dopo glielo chiediamo però la mancata perquisizione del covo che resta comunque uno dei grandi enigmi che è una cosa che a momenti alterni richiediamo sempre perché c'è sempre qualcosa che ci sfugge o che non ci torna come nasce quel libro in quel momento e come viene che stava succedendo quando scrivete quel libro e perché lo scrivete buonasera beh certo quel libro l'abbiamo scritto quando almeno io non avevo proprio niente da guadagnare anzi tutto da perdere perché allora era davvero impopolare vedere il proprio nome accostato a quello del generale muri soprattutto in una fase in cui la storia della storia giudiziaria della cosiddetta trattativa era una storia non conclusa mi hanno fatto spesso questa domanda anzi forse è la domanda che mi sono sentito rivolgere in assoluto più volte nel corso della mia ormai ultra trentennale quasi quarantennale carriera giornalistica ma come ma perché hai fatto questo libro con il generale Moro e non era solo una domanda suggerita da una legittima curiosità era una domanda rivolta spesso con un tono di rimprovero ma come uno come te fa un libro con il generale Moro io non capivo dice uno non mi provo uno come me ma perché come sono io mi chiedeva come sono e quando quando obiettavo riproponendo ponendo a mia volta questa domanda e si mi rispondeva ma un giornalista di sinistra come te che fai un libro ma che cosa c'entrano le idee politiche con la professione io sono di sinistra non rinego la mia storia ma che cosa c'entra la mia storia politica con la mia storia professionale io non ho mai permesso alle mie idee politiche di prendere il sopravvento sulla deontologia professionale del giornalista quello che diceva Lepri non importa per chi voti basta che non lo scopro da quello che scrivi beh sì appunto esatto allora Lepri e l'allora direttore De Lanza un grandissimo giornalista esatto credo di poter farmi io questo diciamo questa 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 pillola di saggezza io non conoscevo personalmente il generale Mori lo conoscevo attraverso la lettura dei giornali diciamo la verità generale insomma allora e poi però poi però lo conoscevo anche attraverso il racconto di persone che io stimavo moltissimo e con le quali avevo fatto anche dei libri che lo avevano conosciuto uno era Giovanni Pellegrino il presidente della commissione stragi e l'altro era il giudice Rosario Priore entrambi mi dicevano ma il generale Mori è stato a nostro avviso uno dei più grandi investigatori che abbiamo avuto in Italia non solo è stato anche un grande uomo di intelligence che ha reso al paese molti servizi davvero utili in parecchie circostanze particolarmente delicate e quindi diciamo io ho combattuto tra questa immagine pubblica che emergeva dalla lettura dei giornali e il racconto e il giudizio di persone che io stimavo molto e un giorno e poi su perché io ho scritto un libro con il generale Mori ovviamente sono fiorite le leggende e un giorno mi telefona prego tipo vabbè ma insomma se ha scritto un libro con il generale Mori vuol dire che è mafioso non lo so per dire perché qualcuno si appunto perché in Italia si ragiona così spesso adesso diciamo ho voluto brutalizzare un po' il senso ma questo era più o meno io me ne sono sempre infischiato devo dire la verità e un giorno mi telefona un mio collega e amico che ho sempre stimato Massimo Franco dico posso fare non ma perché non c'è veramente nulla di misterioso Massimo Franco del Corriere dell'editorialista del Corriere della Sera che aveva lavorato per molti anni con me a Panorama avevamo condiviso la stessa stanza la sua scrivania era di fronte alla mia parlavamo di tutto parlavamo di tutto e quindi mi chiama e mi dice guarda il direttore editoriale della Mondadori Andrea Cane al quale era arrivata la proposta di un libro il generale Mori mi ha chiesto ma tu conosci un giornalista indipendente un giornalista indipendente che potrebbe raccogliere la storia del generale e dice io ho pensato subito a te che ne pensi sì non ho pensato neanche due secondi ho detto certo certo per me è un'occasione questa è un'occasione professionale ma quando parlo di occasione professionale non intendo un'occasione per la mia carriera per la mia crescita dal punto di vista della scala no e nemmeno dal punto di vista economico no è un'occasione professionale perché conoscere un personaggio così complesso era per me un'occasione per studiare un po' più a fondo un grande tema che era quella appunto della cosiddetta trattativa e così è nato è nato il libro nel modo più semplice e allora se tu oggi mi chiedessi lo rifaresti io dico sì lo rifarei non mi pento di aver fatto questo libro ma ho dato la stessa risposta a questa domanda quando ancora non c'erano sentenze definitive sì lo rifarei perché ho sempre pensato che fosse un mio dovere professionale dare voce in quel momento ecco che cosa accadeva in quel momento dare voce in quel momento a un servitore dello Stato che si trovava in una situazione così complicata e che nessuno voleva ascoltare quando invece il figlio di Vito Ciancimino imperversava a reti unificate e su tutti i giornali del regno sì lo rifarei ho fatto bene a farlo lo rifarei di nuovo dopodiché se tu mi chiedessi che idea ti sei fatta beh magari se c'è tempo diciamo potrei rispondere dopo a questa domanda grazie grazie a te facciamo un passo avanti facciamo un passo avanti nel 93 arrestate Totò Rina e dopo le chiedo ovviamente anche della mancata perquisizione al covo di Rina a gennaio di quest'anno peraltro con un giorno di sfalsamento se non sbaglio perché era il 15 allora nel 93 era il 16 e adesso mi sembra giusto il 15 adesso era il 16 sempre il Ross arresta Matteo Messina Denaro è lo stesso Ross che comandava lei quello che oggi ha arrestato Matteo Messina Denaro e con la stessa tecnica investigativa il Ross è cambiato perché le tecniche investigative si sono evolute nel concetto essenziale è rimasto quello peraltro l'avrei cicchettata a sangue Angelo Santo perché era un mio capitano vai a comandare il Ross e non ti comporti come ti avevamo insegnato si è comportato bene come ti avevamo insegnato adesso a parte la battuta i concetti fondamentali quella che molti definiscono il metodo dalla chiesa è sempre quello che distingue l'attività del Ross che è di una banalità assoluta il metodo dalla chiesa è applicare ogni giorno per norma quotidianamente ignorando quello che succede attorno la tecnica ma hanno preso quello e la cosa non va più bene si fa lo stesso e si va avanti finché alla fine alla lunga vinciamo noi perché è un metodo che è come l'uomo di Colombo alla fine deve venire fuori il risultato ci ha messo 30 anni non pochissimi per arrestare Matteo Messina di Naro io per esempio per catturare la Barbara Balzerane nota brigatista rossa noi ci abbiamo messo più di un anno partendo da un tizio che secondo un mio maresciato quello potrebbe essere un brigatista in quel momento non c'aveva molto da fare e vediamo se questo è un brigatista e si comincia poi il sottobligatista passa un altro brigatista poi arriva il terzo brigatista che guarda caso è il marito di una moglie di una persona di una donna morta in un conflitto a fuoco con la polizia finalmente questo cristiano di cui ormai conoscevamo tutto ma noi continuavamo a pedinare una mattina prende un autobus e comincia come noi diciamo a spedinarsi cioè comincia a scendere dall'autobus ne prende un altro monta sulla metropolitana diventa difficilissimo per dire una persona così e ci porta nel primo di luglio di un anno che non mi ricordo qua all'85 a Ostia dove incontra con una bella signorina e si mette a passeggiare lungo il lungomare e noi molliamo poi perché dopo si salbutano noi molliamo l'uomo che tanto quando volevamo lo riprendevamo e cominciamo a seguire questa signorina e una mattina con la balena per i non tecnici e il furgone con cui si facevano le osservazioni fotografiamo questa signora con una bella borsetta da cui spuntava una canna così di pistola e in quel momento lo sono stato io a riconoscere una folgorazione ma questa è la Barterani e lì non sono stato bravo mi perdonerà il dottor Cardella perché sono andato dal consigliere Gallucci e dal consigliere questa me la dovete far lavorare in che senso andiamo avanti andiamo avanti perché questa gli ho detto è la gallina non me la fate arrestare subito sì questa è la gallina dalle uova d'oro altre volte ma l'ho sentito quella volta non mi sentito e l'indomani arrestammo la Barbara Banzerani ma come seguendo sempre quella gente bastava che un organo di polizia intervenisse in questa catena prendesse uno e noi eravamo avevamo saltato però questo concetto rimane sempre vogliamo l'hanno preso ricominciamo ci vuole forza ci vuole capacità e soprattutto ci vuole l'autore l'orizia perché non ero io che facevo le indagini però io andavo al comando generale e se qualcuno si permetteva di dire interrompete queste indagini io lo mandavo letteralmente a quel paese con altre parole poteva essere generale comandante generale non me ne fregava nulla ecco la mia forza era quella io ero autorevole e i miei uomini erano bravi e anche spregiudicato sì anche spregiudicato però per fare certi tipi non si doveva catturare quello che aveva fatto il furto alla tabaccheria si doveva catturare dei pluri omicidi che mettevano in ginocchio lo stato a differenza lì torniamo un attimo a Matteo Messina Denaro l'arresto è Ross 30 anni dopo l'arresto di Totò Riina che forse anche per lo stesso reparto che poi negli ultimi anni ha subito fortuna alterna forse molte sfortune insomma ci sono stati dei momenti di caduta è stato anche un modo per riabilitarsi perché poi a un certo punto mi correggerà il generale se dico una fesseria questa filosofia di investigazioni anche questo modo un po' spregiudicato insomma è stato si è cercato un po' di fargli abbassare le ali quindi io ho notato come avrete notato tutti voi che le perquisizioni dei covid di Matteo Messina Denaro sono andate in diretta a reti unificate ovunque cioè conosciamo anche il bagno di casa della sorella del prestanome della fidanzata cioè mi è sembrato io ho letto questa cosa anche un'ostentazione dopo quella polemica mai placata della mancata perquisizione del covo di Totorina l'ho pensato anche lei generale e se ci racconta però se è stato tutto chiarito su quella mancata perquisizione l'ho pensato anch'io e penso che le circostanze che avevano preceduto la resta di Messina Denaro l'hanno quasi imposto sta di fatto che dal punto di vista tecnico professionale quello di esibire tutte queste cose è una sciocchezza inaudita perché mi taglio una serie di notizie che rendo pubbliche quando le potrei gestire privatamente che poi in questa circondanza specifica il comando generale abbia deciso così bene ha fatto bene ma tecnicamente è sbagliato torniamo all'epoca potrei dire tante cose perché adesso qua c'è benevolenza nei miei confronti quindi è facile parlare allora io consiglio di leggere la sentenza assolutoria dei miei confronti emessa dalla terza sezione del tribunale di Palermo il presidente dottor Loforti il quale ha detto che la decisione sono parole testuali la decisione di soprassedere era la perquisizione dell'abitazione intanto non è il covo è l'abitazione perché il covo non è mai stato trovato fino adesso era l'abitazione dove saltoriamente si recava Totorino e dove viveva la moglie e dove viveva la moglie invece costantemente è stata frutto di una decisione concordemente assunta tra i magistrati della procura della pubblica di Palermo e la polizia giudiziaria preoperante correndo il rischio e lo sottolinea correndo il rischio che andassero disperse anche prove importanti ma la decisione ovviamente me lo insegna il dottor Caldera in ultima analisi se io potevo dire no io non perquisisco e lui mi dice no tu lo perquisisci io devo perquisire non si discute le chiedo una cosa magari ho un ricordo non ho un buon ricordo lui venne trovato con dei pizzini ma di fatti ok di fatti siccome l'ipotesi era quella l'abitazione dove vive con la moglie i mafiosi di solito non la usano come covo adesso io sto brutalizzando e semplificando io le dico quello che mi raccontava sempre il mio comandante che era il generale Sobrani il comandante De Rossi e diceva sempre quando verrà preso Provenzano e verrà preso Rino lo troveranno vestito di fustagno infatti c'è un vestito di fustagno a righe bello verde e un sacchetto di plastica con dentro tutto il materiale che gli serviva per gestire la sua vicenda pari pari dentro questo sacchetto di plastica abbiamo trovato tutti i rapporti scaturito un'informativa che ha dato luogo a un'altra entità di arresti in casa si è favoleggiato tuttora qualche giornalista che ci casca ancora di una cassaforte che era stata smurata dai mafiosi perché dentro chissà cosa conteneva a vent'anni di distanza il mio avvocato Pietro Miglio si è fatto fotografare vicino alla cassaforte che dopo vent'anni era ancora lì quindi certo se non c'è un'agenda è finita anche da Paino c'era la cassaforte noi di Dalla Chiesa abbiamo sempre una cassaforte le chiedo l'ultima cosa su Matteo Messina di Naro chi era Matteo Messina di Naro qual era in questo momento il suo peso cioè era un peso reale quanto all'epoca era quello di Totorina in Matteo Messina di Naro all'epoca si può dire se facciamo una gerarchia di tipo militare che mi viene più facile era un colonnello i generali il padre è stato un grande mafioso e lui era gestito da grandi mafiosi ma lui era un colonnello diciamo che era un bel operativo è diventato un mito quando sono venuti in meno tutti gli altri si cerca sempre il successore di è stato l'ultimo io penso che abbiamo perso troppo tempo per prendere lo Stato veramente doveva prenderlo prima perché in quel paese lo sapevano quasi tutti tranne i carabinieri e la polizia io penso che gli altri lo sapessero tutti e perché non si è preso cioè dobbiamo pensare male no dobbiamo pensare anche male ma dobbiamo pensare quella che è la realtà siciliana ne parlavamo prima a tavola con il dottor Cardeno la mafia è un'organizzazione criminale mafioso significa criminale ma la mafia è anche un problema culturale di una subcultura radicata in determinati luoghi del territorio nazionale che è frutto di una storia di un modo di essere di un modo di subire la realtà storica che ha prodotto questo fenomeno quindi per affrontarlo ci vuole io le ricordo un fatto mi è rimasto impresso ero da poco a Palermo come andavo i carabinieri di Palermo ammazzano il nostro carabiniero sulle madaline a Altavilla Mirice lo aspettano di notte e passavano un viotto e un colpo la schiena è morto arriviamo sul posto circondiamo il paese sembrava la Gestapo abbiamo fatto perquisizione casa per casa Porteleno lo conosce si faceva allora il banto di palaffina il dottor Cadela sa che cos'è si spalmava la palaffina però la puoi spalmare a 30 gradi o anche a 70 gradi la spalmavamo a 70 gradi su tutti quelli che ci capitavano perché eravamo veramente imbezzialiti entro in una casa cronica grazie a quella scaletta che sale su e c'era su un vecchietto sul terzo gradino io ero in divisa e parlavo alla radio quindi lo guardavo ma per me non esisteva poi finisco di parlare e rimango sempre a guardarlo pensando cosa dovevo ancora fare dire e quello che si è sentito osservato per tanto tempo ma guardate cosa vuoi piemontese l'indomani tornando a Palermo questo mi ha chiamato piemontese io sono come i romani cartaginesi gli angioini gli spagnoli passerò e se non conosci non hai questo approccio non ti rapporti con quella gente con l'arresto chiedo a dottor Cardella con l'arresto di Matteo Messina di Naro io non so nemmeno chi è il successore anzi l'ho letto ma confesso che non ricordo il nome adesso ci sarà uno che è salito di rango immagino dopo l'arresto di Matteo Messina di Naro ci sarà qualcuno che è diventato il numero uno quantomeno perché scavata io penso che fanno il nome di chi a cui vogliono mare perché dopo due giorni lo arrestano sono già in galera il successore lo trovano subito è come il successore di Bin Laden dopo tre cinque giorni arriva una bomba americana ed è fottuto come si dice quindi non c'è il successore la mafia è morta quello che volevo chiedere io dico una cosa ma così la dico quasi da pubblico quando ci fu la strage di capaci il ministro della giustizia disse faremmo in modo che questo sia un pessimo affare per la mafia era Claudio Martelli si sono voluti trent'anni ora sicuramente per carità insomma è un'autorità quindi Matteo Messina di Naro è sicuramente la persona che il generale ha tratteggiato non è un capo dei capi è un gregario è un killer che ha fatto strada insomma però era importante prenderlo proprio per chiudere cioè quella profezia se così si può dire di Martelli si sono voluti trent'anni ma si è realizzata quella cosca quella mafia è finita è in carcere sono morti in carcere e ci restano i Bagarella e tutto quel gruppo la nuova mafia adesso non lo so anzi colgo l'occasione per fare io una domanda al generale perché leggo alcuni articoli che dicono che c'è un ritorno dei vecchi a Palermo stanno ritornando i figli i nipoti degli inzerillo di tutti quelli certo è una cosa completamente nuova dico una cosa sola sono stato a Palermo la penultima occasione sempre al solito per la commemorazione di qualcuno e vado a mangiare dal dottore del brodo che lei forse ricorderà la signora in qualche modo allora mi riconosce no mi riconosce attraverso la tutela la scorta lei è qua viene mi si avvicina e mi dice dottore qui non ne possiamo stiamo più stiamo scoppiando bisogna fare qualcosa allora che pensi tu a Palermo il posto Vittorio Emanuele il pizzo le cose le estorsioni io ho visto una città completamente diversa da quella che ricordavo io tavolini fuori traffico chiuso il centro storico chiuso al traffico questa qua mi fa dico guarda siamo sempre lo stesso guardi non se ne può più spacciano droga in continuazione in questa guardate l'avrei abbracciata dico guarda Palermo è diventata normale come il resto d'Italia no voglio dire non voglio banalizzare voglio dire quello che diceva prima il generale che sicuramente anche la mafia evolve quella mafia è stata sconfitta lo dice il generale non lo dico io che non contameno ma l'hanno detto anche tantissimi altri colleghi quella mafia è stata sconfitta grazie anche a loro la nuova attrezziamoci attrezziamoci vedremo speriamo di poterne riparlare qui prima dei prossimi trent'anni sarà sicuramente diversa torniamo a quello che diceva prima sarà la mafia delle città cioè la prima mafia rispetto alle mafie dei campi come l'ha definita lei la mafia della terra lei prima ha fatto una distinzione tra la mafia di allora e poi la mafia di Riina dei Vidani che era quella dei cittadini sono due mafie completamente diverse e come al solito la mafia cittadina può vincere le battaglie ma è il contadino è la terra che poi vince le guerre la guerra di mafia l'hanno vinta i Vidani di Totò Riina nei confronti dei badalamenti dell'inserillo del greco facciamo un altro passo indietro prima lei l'ha accennato ha detto sto scrivendo un libro in realtà l'ha scritto quindi nei prossimi mesi lo potremo anche leggere e dal titolo mi sembra di capire che vuole ricordare e forse accendere più di un riflettore pubblico su una vicenda mafia e appalti che poi si è intrecciata un po' in tutte le vicissitudini giudiziarie del generale che è stata poi se non ricordo male la prima indagine dell'allora colonnello probabilmente Mori quando andò a Palermo e che poi l'archiviazione è stata chiesta c'è anche questo nella sentenza ma adesso ce lo facciamo raccontare velocemente dal generale è stata chiesta in circostanze quantomeno inquietanti quantomeno temporalmente inquietanti posso aggiungere una postilla alla domanda di Erika perché anche per brevità allora stavamo finendo di dire la mafia nuova la nuova mafia quella è sarà diversa sicuramente però voi nel 1992 avete depositato questo depositato significa consegnato allora al procuratore aggiunto di Palermo che si chiamava Giovanni Falcone avete depositato questo rapporto mafia-appalcio ecco questa nuova mafia forse voi in quel rapporto c'era qualcosa che ce la poteva fare ci poteva dare un identikit dell'evoluzione o no? Io penso di sì perché nella sua lungimiranza che andava io ho fatto un paragone difficile perché ormai sono pochi che conoscono le due persone tra Giovanni Falcone e il generale della chiesa che erano due visionari nel senso che molte volte non vedevano quello che era lì vicino ma guardavano benissimo quello che sarebbe successo dopo 20-30 anni e lui mi ricordo che intanto si impose facciamo una discussione agitata perché lui voleva tu devi consegnare il rapporto io dico non lo consegno perché il rapporto è incompleto e lui alla fine mi convince e dice guarda voi non saprete che danni vi comporterà questo rapporto ma almeno consegnatelo a me che avallo con la mia firma e aveva ragione tanta ragione ci ho posto perché che cos'era quel rapporto lì? quel rapporto lì era un tipo di mafia vederistica la mafia degli affari che lui lumeggiò due o tre mesi dopo in un convegno a Palermo e disse con una frase che molti non capirono la mafia è entrata in borsa per dire che la mafia era passata dall'ammazzamento e dal pizzo da questi lavori e così era passata ai livelli superiori e la mafia nuova potrebbe essere quella dei nuovi dei nipoti dei vecchi che però saranno degli imprenditori criminale pure ma imprenditori ma già all'epoca noi individuammo qualche imprenditore criminale non solo noi in Sicilia ma anche a Milano Mani Pulite è un esempio di imprenditoria deviata collegata alla mafia perché la famiglia Buscemi gli imprenditori di Cosa Nostra gli amici del cuore di Totorino erano legati a Gardini alla Ferruzzi ed erano indagati dal dottor Di Pietro quindi il legame tra Milano e Palermo l'avevano intuito soprattutto Borsellino e Di Pietro e volevano lavorarci insieme la morte di Borsellino accelerata e forse anche per questo motivo qua ha praticamente troncato questa indagine Mafia Palti è la storia della mia vita professionale io adesso ho scritto un libro su Mafia Palti e finché ci avrò un giorno di vita lo presenterò in tutta Italia anche qui e mi toglierò tanti salsoline nelle scarpe e io chiederò sempre contezza di alcuni atti che si sono verificati dalla morte di Giovanni Falcone alla morte di Paolo Borsellino e qualche giorno dopo che sono se uno li sa vedere bene agghiaccianti perché questo è il termine esatto agghiaccianti se mi date il tempo ve l'elenco perché c'è una parte che viene spiegata anche nella sentenza d'appello che assolve il generale che in effetti desta quantomeno curiosità professionale chiamiamola in elenco proprio brevissimo sono 3-4 date 23 maggio 1992 muore Falcone e sua moglie e la scorta a Capaci prima era morto all'aprile il 4 aprile l'onorevole Salvo Lima e subito dopo la morte di Falcone Borsellino che nel frattempo era ritornato a Palermo chiede di parlare con noi 25 di giugno per sapere a che punto è la storia di Mafia Appalti che era stato già oggetto di una crisi diciamo di rapporti per usare un termine perché quando io mi incazzo mi incazzo veramente e quella volta mi incazzai veramente col procuratore della Repubblica di Palermo perché era stata praticamente distrutta destrutturata un'inchiesta che secondo Giovanni Falcone non l'ultimo dei cretini e poi di Paolo Borsellino altro non l'ultimo dei cretini era il modo nuovo di fare la mafia il 25 giugno Borsellino mi chiede di riprendere l'indagine accetto il 13 di luglio la procura della Repubblica di Palermo nelle persone di perché i nomi sono importanti Roberto Scarpinato attuale onorevole e Vitolo Forte sostituto procuratore entrambi di Palermo chiedono l'archiviazione di Mafia Appalti l'indomani il 14 luglio nella riunione della DDA di Palermo tutti presenti compresi Borsellino chiede Contezza di Mafia Appalti nessuno gli dice che è stata archiviata 19 luglio 1992 ore 7.30 del mattino il dottor Pietro Giammanco telefona a Borsellino dicendo che gli dà la delega per indagare su Palermo alle 16.30 Borsellino muore il giorno il giorno 22 il giorno 22 Giammanco malgrado sia morto Borsellino che voleva continuare ma sia appalti c'è questo particolare che agli accianti non glielo ho detto nella mia informativa di Mafia Appalti alla pagina 335 c'è scritto che in via di Amelio hanno un'abitazione i fratelli Buscemi noti mafiosi ma per Dio almeno questo si fa pensare che non è il caso di archiviare questa pratica il 22 luglio Pietro Giammanco firma la lettera di archiviazione e il 14 agosto nella calura per Armitana per cui per strada non c'è nessuno il dottor Lacomare firma l'archiviazione questi sono fatti che meritano non dicono una commissione inchiesta ma che la commissione inchiesta parlamentare si interessi di questo problema e io mi batterò perché ciò avvenga e per fare ciò ho scritto un libro e adesso ci sarà e prossimamente c'è anche la commissione parlamentare giusto lo accennava prima generale adesso comincia il 26 comincia l'avvocato di Borsellino Trizzino e poi spero che mi chiamino a me o chiamano a De Dono forse è meglio a De Dono perché è più lucido e si incavola meno di me Fasanella prima dicevi se eccomi prima mi dicevi brevemente cioè riusciamo a fare insomma su tutto quello che abbiamo sentito dire al generale che gli avremmo chiesto altre 500 cose ma cerchiamo di lasciare spazio anche a qualche domanda del pubblico no no cioè se tu prima ci fai una micro come dire una micro chiusa di quello che abbiamo detto di quello che tu mi hai detto poi se volete vi dico anche come la penso io è un tema molto ma molto complesso per poter essere diciamo dipanato in due battute se proprio mi chiedi di diciamo di dire due parole a conclusione di questo primo giro e prima di passare la parola le domande del pubblico allora io vorrei dire due cose la prima la soluzione definitiva del generale Mori spero che abbia un effetto benefico sul processo di ricerca della verità su quello che è accaduto tra il 1992 e il 1993 perché separando finalmente la vicenda processuale e personale del generale Mori da quegli eventi forse la discussione il lavoro di ricerca di giornalisti e di storici non so cosa riusciranno a fare i magistrati forse può avvenire in un clima meno tossico cioè secondo te adesso va affidata agli storici la ricostruzione di quello che avviene abbiamo discusso per vent'anni ma la mia domanda è proprio agli storici rispetto a una commissione parlamentare ma guarda abbiamo discusso per vent'anni su generale innocente innocente c'è stato o non c'è stata una trattativa e abbiamo discusso per niente su quello che è accaduto tra il 92 93 paradossalmente i cercatori di verità in servizio permanente e effettivo che hanno messo in croce il generale Mori hanno reso un pessimo servizio alla verità perché hanno impedito di capire hanno impedito di capire che cosa è successo quanto alla magistratura parlo dei miei colleghi non dei magistrati i magistrati fanno il loro lavoro ma la magistratura io non voglio intervenire sulla questione fu o non fu un errore giudiziario fu o non fu una persecuzione cioè è una cosa diciamo che lascio ovviamente alle considerazioni personali del generale Ori io però ritengo una cosa e con questo chiudo ritengo che la magistratura abbia commesso un errore questo questo lo si può dire abbia commesso a mio avviso un errore qual è stato questo errore è stato quello di aver tentato di districare un nodo così complesso come il rapporto tra stato e mafia esclusivamente sul piano giudiziario non è così perché se si fa questo vuol dire non aver capito che cosa è stata la mafia nel nostro paese vuol dire non aver capito che la mafia nel nostro paese è stato un problema di natura storico politico anche non solo criminale ed è stato un problema e questo è un aspetto ancora più importante di natura geopolitica per il ruolo che la mafia ha avuto negli equilibri interni e mediterranei nel secondo dopoguerra grazie grazie se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda al generale Morio ovviamente al dottor Cardella ovviamente domande anche perché per ragioni televisive questo incontro viene registrato altrimenti i colleghi poi saranno costretti a oscurare allora generale prima di tutto tengo a esternarle la mia solidarietà sotto il profilo umano ci mancherebbe altro è un atto dovuto e lei però deve permettermi una cosa io ho ascoltato quello che lei ha detto insomma senza essere irriverente mi sembrerebbe questo suo tentativo all'insaputa degli organi a lei superiori di questo aggancio di questo contatto di questa trattativa perché anche se il termine trattativa dicevo di anzi si usa nella resa quindi è un termine che ha un valore intrinseco che non può essere ora non può essere diciamo così ridotto quindi è una semplice considerazione lei mi viene a dire che ha intavolato un accordo una ricerca di contatto praticamente con le altre sfere mafiose e che cosa portava diciamo in cambio teniamo conto che parliamo di un periodo in cui i presidenti del consiglio si erano tutelati avendo in casa propria dei referenti la domanda la domanda è questa non ritiene che cosa sperava di ottenere all'inizio sia un po' riduttivo se non ingenuo lei ha intavolato una trattativa e non aveva niente di sostanzioso che potesse in qualche modo giustificare una domanda brevissima innanzitutto grazie sentendo questo dibattito mi sono venuti in mente tutti i libri di Leonardo Sciascia dal giorno della civetta fino al cavaliere della morte perché il tema c'è tutto Sciascia aveva già capito tutto una domanda molto politica voi avete parlato della mafia come nuovo imprenditore che si sta riciclando con una nuova imprenditoria domanda politica tutte e tre cosa pensate di soluzioni antiprobizioniste sulla droga per ridurre il potere della mafia scusate io volevo fare una domanda in realtà soprattutto ai due giornalisti quindi mentre al generale Mori vorrei esclusivamente e molto rapidamente porgere delle scuse e mi spiego perché scuse da cittadino italiano che peraltro nel suo piccolo ha sempre creduto ha sempre creduto alla sua innocenza però in Italia la giustizia viene amministrata in nome del popolo italiano ed è verissimo quello che ha detto il dottor Cardella che poi alla fine è la giustizia che per fortuna l'ha assolta non è stato nessun altro tribunale gli unici tribunali che contano sono quelli che l'hanno assolta però resta il fatto che sempre la giustizia per 17 anni ha comunque tenuto in piedi quella che il professor Fiandaca in un celebre saggio titolato non credo da lui ma dal foglio la trattativa è una boiata pazzesca comunque per 17 anni stiamo stati dentro a questa cosa e allora collegandomi con le scuse come cittadino volevo fare la domanda ai giornalisti perché veramente purtroppo questa parte di giustizia è stata esercitata in nome del popolo italiano cioè è stata esercitata con il tifo di parte del popolo italiano alimentato però dai vostri colleghi Giovanni Fasanella non me ne vorrà io lo conosco bene ma non faccio testo perché io sono un lettore bulimico ma se oggi qualcuno chiedesse dimmi un giornalista da associare a 17 anni di articoli e di libri sulla trattativa non sarebbe lei ma per una ragione non per una ragione non casuale perché come molti colleghi le hanno detto ma perché vai a fare il libro che viene definito poi innocentista con il generale Mori quindi io la domanda per i giornalisti è questa quanta responsabilità hanno i media nella creazione nella formazione nell'alimentazione di un'opinione pubblica che sulla trattativa come su tante altre vicende ha sempre bisogno di una storia parallela di questo paese che continua a cercare l'agenda rossa di Borsellino ecco quante carriere mediatiche sono state costruite in questi 17 anni sulla distruzione mediatica di servitori dello Stato come il generale Mori e i suoi collaboratori solo questo se mi consente rispondo alla prima domanda quella del signore e poi voi rispondete sulle altre due se c'è una cosa che io non sono e lo riconoscono tutti non sono un ingenuo lei cosa faceva nel 92 io ero a Palermo e tiravano colpi dappertutto ogni giorno raccattavamo un morto lei faceva tutt'altro il mio ministro non sapeva che dire il mio comandante generale se ne fotteva altamente io ho lavorato da solo con i miei uomini e non sono un ingenuo che cosa doveva andare a dire io a Ciancimino ma che domande mi fa lei ma l'hanno paragonato senza la mappa ma sta scherzando lei offende non la mia persona offende quei cento uomini che si sono fatti un culo così per anni ha capito allora dico io che parliamo di altra cosa di droga mi pare che io sono assolutamente contrario intanto chiariamo una cosa l'uso di sostanze stupefacenti è già libero no è già libero nel senso che non è reato non sei perseguibile certo se so che tu hai uso di sostanze stupefacenti dovrò guardare se puoi tenere la patente dovrò a meno che tu non vada a farti un periodo ma questo non è persecuzione di chi usa è tutela dell'interesse pubblico perché non credo che a lei possa far piacere incontrare uno che guida sotto gli effetti così ecco quindi io sono assolutamente contrario anche perché il principio che viene addotto e cioè quello di colpire i redditi della mafia mi sembra una cosa sciocchissima diciamo così una cosa inesistente guardi che ci sono alcuni colleghi non moltissimi che la pensano diversamente da me ma insomma ognuno ha la propria idea ma che vuol dire noi prima di tutto la mafia voglio dire non ci possiamo mettere in competizione con la mafia perché la mafia la mafia o le mafie i colombiani quello che volete insomma vendono la droga magari cambiano un qualche cosa oggi non è mica soltanto la vecchia erovina oggi ce ne sono 3.000 di droghe da sballo basta cambiare un pochino qualcosa qualche componente qualche molecola e ha un effetto migliore noi ci mettiamo in competizione con loro abbassiamo i prezzi oppure la regaliamo proprio e questo è il primo motivo poi ce n'è un altro che se lo volete chiamare etico non è tanto di moda ma insomma noi ai nostri ragazzi dobbiamo dare un'indicazione cioè se noi consentiamo l'uso della droga è come se dicessimo ragazzi va bene la potete usare non succede niente non è vero che non succede niente che io voglio vedere domani un dirigente d'azienda un magistrato che viene a fare le cose che si è fatto prima già adesso insomma discutiamo delle sentenze figuratevi dopo allora sulla droga ho poche idee ma confuse e non intendo confonderle ulteriormente non so che cosa dire se non che io non ho mai fatto uso di droga credo che mai accadrà questo ogni tanto mi piace bere un goccetto di vino ma credo che questo non sia un peccato è un peccato quindi mi scusi signora una cosa molto rapida invece sulla trattativa ma guardi il generale Mori ha vissuto una vicenda processuale lunghissima per aver fatto qualcosa che in America è la normalità l'FBI quando deve diciamo mettere compiere una operazione complessa di polizia giudiziaria si comporta esattamente in questo modo va a parlare con l'anello più debole supponendo che ceda e che aiuti le forze dell'ordine a trovare l'anello più forte più robusto questo si fa normalmente adesso non voglio fare i nomi di ma per aver fatto anche una cosa che il legislatore durante gli anni di piombo in Italia ha addirittura messo nero su bianco attraverso leggi sul pentitismo e sulla dissociazione è certo leggi qui si dice che lo Stato può trattare che di questo si tratta cioè lo Stato può trattare anche con i criminali se il fine è superiore e chiudo non voglio fare nomi per non alimentare polemiche ma diciamo fior di investigatori che hanno dato un colpo mortale al terrorismo almeno all'apparato militare e logistico del terrorismo in Italia sono andati a deporre in commissione stragi e in commissione prima nella commissione dicendo abbiamo sconfitto il terrorismo ma per poter raggiungere questo obiettivo abbiamo dovuto pagare un prezzo di impunità ultima domanda ultima ma veloce una domanda telegrafico innanzitutto grazie per le testimonianze che avete reso io sono tra quelli che ha fatto scattare l'applauso quando il dottor Cardella ha pronunciato la parola lungaggine nella giustizia che ne pensa che ne pensate tutte e tre se aggiungiamo anche una curiosa velocità della giustizia quando questa ha riguardato qualche presidente del consiglio in Italia grazie del consiglio in Italia qualche presidente del consiglio si ma chi è quale presidente del consiglio si il dottor Cardella chiede di poter essere preciso no senta guardi io non voglio fare il difensore d'ufficio della magistratura per carità perché no no perché voglio dire un corpo di 9000 persone ci può essere di tutto e c'è di tutto e purtroppo ripeto oggi la situazione è quella che è però i processi al presidente del consiglio al quale allude lei francamente non avevo capito e già questo è significativo a lei sembra che siano durati poco a me non sembra affatto che siano durati poco stanno durando cioè continuano ancora mi spiego forse lei si riferisce a quello per il quale c'è stata l'unica condanna che è una condanna confermata in Cassazione ma è stata per un problema fiscale e un problema delle aziende ma anche quello non credo che sia durato poco parliamo sempre di anni cioè voglio dire per carità io non posso difendere anche perché così genericamente starà a dire poco e molto però dico non mi sembra che ci sia questa evidenza allora per Mori lo facciamo durare 17 anni 18 anni per Berlusconi lo condanniamo subito non mi pare che sia andata così poi ripeto per carità ognuno la può valutare diversamente il problema è una cosa che da noi c'è un sistema processuale un ingolfamento tale per cui alcuni processi particolarmente complessi durano troppo tempo tra l'uno e l'altro però se lei pensa che l'incriminazione di Trump che è stata fatta l'altro giorno il processo è fissato per il 2024 l'inizio di uno dei processi voglio dire alcune cose sono non puoi comprimerle oltre un certo un certo livello almeno poi può darsi che io sbagli per carità e magari c'è stata un'accelerazione però onestamente la magistratura è una macchina così complessa e intervengono nelle decisioni tante di quelle persone che è possibile che questo aggravi la lunghezza del processo rende più complicato il complotto di una sola persona è più facile che si sommino gli errori tranquilla rapidissimo devo avere il cattico veramente rapidissimo sia chiaro io mi sì sì d'accordo d'accordo perfetto rapidissimo rapidissimo per toccare un altro punto secondo me estremamente sensibile di tutta questa vicenda che riguarda l'indicibilità della storia di questo paese io non metto assolutamente in croce la magistratura la magistratura fa deve fare il suo mestiere guai se non lo facesse e si suppone che lo faccia in buona fede può commettere degli errori ma io non mi finché non trovo le prove di cosa non mi diciamo non parlo di complotti o di cose di questo genere magistratura può sbagliare sbaglia ma io suppongo che lo faccia a volte spesso in buona fede il problema è l'indicibilità cioè il problema è gli ostacoli che la magistratura spesso incontra nel processo di costruzione di una verità giudiziaria e sono a volte ostacoli insormontabili spesso a impedire che la magistratura faccia il proprio dovere e la cosiddetta ragione di stato anzi oggi alla luce o concluso dell'intervista di Giuliano Amato su Ustica non dovremmo più dire ragioni di stato ma ragioni di stati che congiurano tra loro per impedire l'accertamento della verità grazie adesso do la parola a Italo Marri per grazie ma io solo per fare un ringraziamento soprattutto ai nostri quattro ospiti alla giornalista Erika Pontini al procuratore Pausto Cardella al generale Mario Mori e al nostro scrittore che dico giornalista Giovanni Fasanella vi devo raccontare in due minuti che sono undici anni che viene all'isola del libro io sono stato accusato che questo festival è troppo di sinistra Giovanni sa benissimo come la penso e da che parte sto eppure tutti gli anni Giovanni viene all'isola del libro qual è il tuo prossimo libro? Cavour sarà presentato qua all'isola del libro appena uscirà e anche mafia appalti e anche un libretto così che il generale Mori ci ha promesso di venirlo a presentare all'isola del libro come vedete i nostri caffè letterari non hanno successo perché viene tanta gente o poca gente hanno tanto successo perché quelli che vengono non se ne alza uno per andar via vuol dire che i nostri letterari sono indovinati che i nostri caffè letterari sono interessanti grazie a voi che ci sostenete grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti loro e arrivederci presto grazie grazie a tutti